Regione Toscana, il Consiglio regionale. In Toscana non è più vigente l'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dopo cinque giorni. È questa la novità che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato nell'ultima seduta del Consiglio, una norma approvata all'unanimità che ha visto favorevoli tutti i gruppi politici del Consiglio regionale. In Italia sono già 11 le regioni che hanno eliminato la certificazione medica per la riammissione a scuola dopo malattia e il certificato per rientrare è necessario solo in caso di malattie infettive, con l'obbligo di denuncia da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri alle autorità competenti. Su questo ci sono due passaggi importanti, uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura agli inizi degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia, la scienza ormai evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia e quindi il certificato dopo cinque giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare le classi, questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione delle diffusioni delle malattie e quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei cinque giorni dopo cinque giorni di assenza. Quindi per un principio di semplificazione, dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica, dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di rientrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. Entra in vigore dopo la pubblicazione, ci sarà il passaggio alla promulgazione da parte del Presidente e la pubblicazione dopo 15 giorni la pubblicazione entrerà in vigore, quindi è presumibile tra una ventina di giorni. Sì, con soddisfazione, una storia che viene da lontano, siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca Presidente della Commissione Sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il Covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la Regione Toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza, senza certificati medici e senza un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di vista ovviamente dei bambini, qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Voto favorevole anche delle opposizioni, dato che si tratta di una norma che va a semplificare il settore della medicina e vede il favore anche delle scuole per la semplificazione amministrativa. Credo che sia in linea con il cambio della medicina perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tanto è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia che sono oberati in questo momento di carenza di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che come è stato detto anche all'interno della commissione è obsoleto, infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Nelle cosiddette aree interne, le aree minori e marginali della Toscana, il problema della desertificazione bancaria è sempre più presente e sentito dalle popolazioni locali. La chiusura di sportelli e l'abbandono di filiali poco remunerative viene messo in evidenza dall'atto approvato dal Consiglio regionale che cerca di contrastare il fenomeno della desertificazione bancaria. L'atto di sintesi, dopo un lungo percorso in commissione, è stato approvato da maggioranza e opposizione. In Toscana ci sono 20 comuni che non hanno più lo sportello bancario e 44 ne hanno uno solo, con il 25% dei comuni della regione che sono già senza sportello o rischiano di perderlo. Il tema della desertificazione bancaria, cioè della chiusura degli sportelli bancari, è una questione che impatta in modo duplice sul territorio, è quello che è emerso nelle audizioni che abbiamo fatto in commissione. Non c'è solo il tema molto rilevante del fatto che scompare uno sportello bancario e che quindi molti servizi, soprattutto per le persone più anziane o per coloro che hanno difficoltà di accesso ai servizi digitali, scompaiono. Ma c'è anche il fatto, dimostrato dai dati, che la diminuzione degli sportelli sta comportando anche una diminuzione degli affidamenti in termini di credito alle piccole e medie imprese di questi territori. Noi abbiamo il 25% dei comuni della Toscana che sono o senza sportello bancario o con uno solo di sportelli bancari. E se pensiamo a quello che significa in termini di servizi, in termini di difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, capiamo quanto questo tema sia rilevante. Abbiamo una bella eccezione in questo panorama il sistema del credito cooperativo. Il 39% degli sportelli del credito cooperativo in Toscana sono nei territori delle aree interne e montane. Però se non c'è una revisione a livello europeo di alcuni parametri che vengono applicati in modo molto rigido, chiaramente questi istituti che per loro vocazione sono a maggior contatto con il territorio rischiano di essere penalizzati e di dover essere costretti a una contrazione degli sportelli in virtù del rispetto di alcuni parametri. Quindi la richiesta della Commissione alla fine di queste audizioni è duplice. Da una parte sostenere esperienze come gli sportelli mobili che alcune banche stanno mettendo in atto per coprire il territorio regionale, dall'altra la richiesta al Governo che in sede europea vengano introdotti criteri di proporzionalità perché non si può applicare al grande gruppo bancario gli stessi identici criteri di una banca di credito cooperativo. A favore dell'atto anche Fratelli d'Italia, che però ha evidenziato come la desertificazione delle aree interne sia una responsabilità precisa di una classe politica che non ha capito cosa stava accadendo, e pone d'attenzione per discutere in Commissione delle aree interne in tempi brevi il progetto Polis di poste italiane. Continua il filone dell'adesione unanime alle proposte di risoluzione delle aree interne. Per quanto riguarda il rafforzamento del sistema bancario delle aree interne abbiamo dato un voto diciamo favorevole però con alcune precisazioni. La prima è che la Commissione stessa nel momento in cui i poste italiane annunciava il piano Polis con un investimento di 800 milioni in 5 anni proprio su tutti quei comuni che sono all'interno anche delle aree interne, si parla di 7 mila comuni in Italia, fa un appello sostanzialmente un po' incisivo ma che deve tener conto del fatto che il sistema bancario per radicarsi nelle aree interne deve necessariamente fare in modo che sia la politica probabilmente a riportare quelle condizioni necessarie al credito per attestarsi, mentre le poste italiane oggi probabilmente è l'interlocutore principale della maggior parte dei residenti, persone che hanno un'età molto diciamo avanzata, per quanto riguarda tutta la tipologia di servizi che questo piano Polis sta annunciando. Per quanto riguarda invece il FESR, sì abbiamo anche qui dato pieno mandato e adesione alla proposta di risoluzione che impegna finalmente la Giunta a destinare quote rilevanti del FESR, però abbiamo chiesto anche al Presidente Nicolai ora di essere di parola, così che la Giunta regionale possa sostanzialmente veramente tener fede agli impegni che oggi tutta l'Aula ha votato all'unanimità. Incontro-confronto tra difensore civico della Toscana Lucia Annibali e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri per attivare una stretta collaborazione rivolta a costruire una cultura di vera parità di genere, abbattere stereotipi e discriminazioni, un obiettivo delle due istituzioni toscane per rendere le donne più forti e libere. È stato un incontro questa mattina molto positivo, molto proficuo, ci siamo appunto confrontate sui vari temi, vari aspetti che coinvolgono le donne, pari opportunità ma anche naturalmente violenza. Abbiamo già in programma alcune attività da svolgere insieme, quindi unire le forze della difesa civica regionale con la Commissione Pari Opportunità e magari anche lanciare dei progetti pilota di cui poi questa regione può essere orgogliosa. Questo è il nostro augurio e naturalmente l'obiettivo è quello di esserci sempre, di esserci con forza. Questa mattina un incontro molto proficuo con l'ufficio di Presidenza, con la volontà comune di iniziare dei percorsi a difesa dei diritti delle donne di tutta la regione toscana perché il nostro obiettivo da sempre è quello di costruire una cultura di parità e allo stesso tempo cercare di abbattere discriminazioni, stereotipi di genere che sono alla base della violenza. Secondo noi questo rapporto stretto di collaborazione con Lucia Annibali, la nuova difensora civica, darà veramente l'opportunità a tutte le donne toscane di essere più forti e di essere maggiormente difese. Mezzo secolo di attività per i bandierai degli uffizi con il Consiglio regionale che consegna il gonfalone d'argento, la più alta onoreficenza riconosciuta dalla Toscana. Un ringraziamento forte di tutto il Consiglio regionale per dire grazie ai bandierai degli uffizi che portano in alto il nome di Firenze della Toscana nel mondo, nel nome della tradizione e della cultura italiana. Un legame che in 50 anni è cresciuto moltissimo. Un'emozione fortissima, un riconoscimento importantissimo. La regione è che il Consiglio regionale della Toscana che ci premia per 50 anni. 50 anni di attività ininterrotta, quindi un premio che va non solo a chi è in costume oggi, ma a chi è stato in costume in questo percorso, in questa storia. Noi abbiamo rappresentato, oltre alle tradizioni fiorentine, Firenze e l'Italia nel mondo, in occasione di importanti eventi anche sportivi come i mondiali di calcio nell'86, la città del Messico e altre occasioni. Siamo conosciuti in tutto il mondo ed è la forza dei volontari che prendano un tamburo e una bandiera e si sentano così a rappresentare Firenze e veramente la Toscana in giro per il mondo. E' il nostro modo per dire grazie ai bandierai degli uffizi per portare in alto il nome di Firenze e della Toscana nel mondo. Il gonfalone d'argento è il massimo riconoscimento che il Consiglio regionale della Toscana offre a personalità, gruppi che portano in alto il nome della Toscana nel mondo. La storia di 50 anni, la capacità anche di sapersi innovare, il modo di saper raccontare le tradizioni della Toscana. La Toscana è una delle terre più belle ci sono al mondo e la loro capacità di saper non solo sventolare una bandiera ma anche raccontare le nostre tradizioni è qualcosa che abbiamo voluto premiare con questo riconoscimento. Grazie a tutti.